C'è un premio a cui noi teniamo moltissimo, che è il premio che porta il nome di tuo papà. Il premio Claudio Capone. Benissimo. Lo annunci tu, perché io sono felicissimo che lo vince lui. Allora, per il premio Claudio Capone, Francesco Bulken. Io ti vado a prendere il premio, vi lascio in buona compagnia, tieni fra intanto. Di qualcosa tu. Buonasera a tutti, grazie mille, sono emozionatissimo tanto per cambiare. E ringrazio veramente di cuore, perché ricevere un premio intitolato a Claudio per i documentari è veramente un onore. Non solo professionalmente ha inventato uno stile, ma soprattutto è stato sempre un gran signore e una grande persona. Io infatti volevo dire, ci tenevo a dire che il pensiero anche condiviso con Davide di dare questo premio a Francesco è stato anche un gesto pensato proprio, quando abbiamo istituito questo premio, era proprio pensare all'amore che una persona mette in questo lavoro a prescindere da quanti anni uno lo possa fare e il fatto che Francesco è una cosa incredibile, cioè quando l'ho conosciuto è un bambino, è come quando lo metti a scartare i regali, mi ha impressionato. È un amore verso questo lavoro che mi ha toccato e quindi per me era giusto darlo a lui. Grazie, 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 ci vediamo prima la clip. Grazie. Ah, vuoi dire qualcosa? Anche qui il panico per scegliere le clip che mettiamo tra mille cose fantastiche, abbiamo fatto giusto, ovviamente insomma rappresentativo, però ecco, veramente complimenti. Grazie di cuore, grazie. Premio Claudio Capone a Francesco Bulcaen. Grazie anche a Davide Capone. Grazie.